In tutti questi anni ve lo abbiamo raccontato. Lo abbiamo vissuto, amato, discusso e ancora amato. Siamo stati in tanti a vederlo crescere, in tanti hanno dato il loro contributo. Con professionalità, con passione, li ringraziamo uno ad uno. Perché con il loro pensiero hanno raggiunto il vostro cuore. Vi abbiamo raccontato la storia, le tradizioni, la cultura. Vi abbiamo informato, sempre, con rigore, serietà. Vi abbiamo emozionato, stupito. Vi abbiamo commosso, donato sorrisi. Abbiamo lottato per la difesa di questa terra. Perché ci sembrava e ci sembra giusto essere al vostro servizio, sempre. Ogni giorno da 30 anni. Oggi è sempre più la televisione del Salento. La nostra, la vostra. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.